ciao amici del tempio ciao a tutti benvenuti al mio canale oggi vi presento il primo di tre video spettacolari un weekend di allenamento venerdì sabato e domenica vi faccio vedere un weekend di allenamento di un vero karateka seguitemi un weekend di allenamento di un video spettacolari un video spettacolari un video ciao ragazzi oggi è venerdì e siamo pronti per la prima giornata di allenamento seguitevi ok ragazzi oggi mi sto concentrando esclusivamente sulla preparazione a te quindi primo giorno concentratissimo sulla preparazione a te 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 Ok ragazzi, ora un esercizio eccezionale per l'equilibrio. Ok ragazzi, sono sotto a una delle mie due postazioni all'interno del dojo dove attacco sempre di solito i sacconi. Stavolta ho levato la catena e ho una grande idea, seguitemi. Ok ragazzi, siamo arrivati a fine del venerdì sera. Un super allenamento, flessioni, addominali, allenamento con la bombola, sacconi, trazioni, insomma un po' di cosine. Questo è il primo episodio del venerdì, vi aspetto per il secondo episodio del sabato, ok? Vi aspetto, ciao! Ciao!